E adesso vi presento subito i nostri primi ospiti di oggi. Diamo il benvenuto, parliamo di Galdos, noi ci siamo già occupati di questa scuola di formazione molto interessante, con Diego Montrone che è il presidente Galdos, buongiorno, benvenuto, e Fabrizio Lops, responsabile area placement apprendistato. Allora chi è che ricorda, perché noi abbiamo già fatto una bella chiacchierata su questo argomento, ma per chi non l'avesse sentita bisogna un po' ricordare anche l'importanza di questa scuola. Galdos è un centro di formazione professionale regionale che organizza attività formative da circa 25 anni, offerta ai giovani che dopo la terza media desiderano investire su una professione, decidono di formarsi in un lavoro, in un'attività che poi diventerà evidentemente il loro lavoro dopo 3 o 4 anni. Lavoriamo in diversi settori e sono circa 1.400 i ragazzi che fanno questa scelta e che costruiscono il loro futuro insieme a noi. Con una percentuale poi altissima di inserimento al lavoro, dicevamo la scorsa volta. Voi ricordavate che siamo circa il 93%, siamo impegnati a farlo crescere questo numero perché non siamo così soddisfatti, però evidentemente è bello vedere tanti giovani che dopo 3 anni possono iniziare a costruire il loro futuro in un'attività vera che ha a che fare con un mestiere e da lì partire con la loro carriera professionale. Ricordiamo anche che c'è tutta un'equipe che aiuta questi ragazzi a trovare la propria strada perché stiamo parlando di un'età molto difficile dove non sei carne e pesce di solito si dice. Sto pensando ai miei figli, difficilissime. Esatto, io ho una nipotina di quell'età, insomma non è semplice avere le idee chiare, si rischia di sbagliare. In che modo voi riuscite a far capire a loro stessi prima di tutto chi sono e cosa vogliono? Certo, ma diciamo che i ragazzi spesso non hanno le idee più chiare di noi, nel senso che magari alle volte non li aiutiamo a seguire quello che loro hanno come percezione, magari come desiderio e non facciamo il tutto per farglielo verificare perché magari abbiamo precostituito noi delle decisioni e delle risposte che sono diverse da quelle che loro hanno. Io direi che la cosa più importante da fare, anche perché non è che uno a 13 anni debba investire e decidere tutto della sua vita, può anche sbagliare, è aiutarli a verificare quello che sentono, che provano e che desiderano e magari fargli vedere altre possibilità perché magari non le hanno considerate tutte. Quindi un sistema di orientamento che faccia vedere, verificare senza escludere nulla, secondo me in questo momento è una grossa carenza ed è quello sul quale noi siamo particolarmente impegnati all'interno dei percorsi delle scuole medie con le scuole che parteciperanno a noi e con le attività di orientamento e di verifica che oserei dire tutto l'anno Galdus organizza proprio con questo obiettivo. Ecco, poi con Fabrizio Lops facciamo tutto un discorso sull'apprendistato, ovviamente, che è molto importante, perché già avere a che fare con il mondo del lavoro non è uno scherzo, noi lo vediamo a volte quando i ragazzi vengono a fare gli stage, è una cosa completamente diversa dalla scuola e degli orari, deve essere precisa, deve essere affidabile, no? Tante qualità da avere, certo. Certo, certo, però ovviamente le scuole servono anche a questo. Vogliamo ricordare anche quali sono, cioè bellezza, cultura, lavoro, quali sono poi i campi nei quali vengono inseriti? Allora, tutto il settore della ristorazione è sicuramente un'attività molto presente nelle iniziative di Galdus. Quando dico ristorazione, vuol dire dal cuoco, dall'aiuto cuoco, per arrivare alla panificazione, pasticceria, pizzeria, sala, insomma tutti i ruoli e attività coinvolte in questo settore. Poi a questi abbiamo associato un'attività legata alla ristrutturazione, che vuol dire un po' di muratura, ma quest'anno per la prima volta si dedica anche alla manutenzione del verde. Abbiamo ruoli legati alla gestione dei pc, alla manutenzione, alle reti, reti elettriche, sia civili che industriali, gioielleria. Sono tutte attività che tra l'altro non sono per noi fisse o un elemento dal quale non si può prescindere. Perché di anno in anno, anche se magari non capita sempre, modifichiamo sia i contenuti e addirittura i settori, magari implementandoli, tenendo conto quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro. Perché l'obiettivo nostro di Galdus e di Centro di Formazione Professionale è quello di inserire, di aiutare, inserire nel mondo del lavoro i ragazzi. Quindi le attività e i settori devono, se si vuole fare bene il nostro mestiere, avere delle relazioni da subito con aziende del settore che manifestano l'intenzione di inserire professionalmente poi i ragazzi. Certo, quindi conoscere il mercato, capire là dove è il caso di inserirli. Torniamo a chiacchierare con Diego Montrone e Fabrizio Lops di Galdus, una scuola di formazione del quale appunto vi abbiamo dato già un bel quadro. E adesso io voglio chiedere a Fabrizio Lops, che è il responsabile area placement apprendistato, che cos'è l'apprendistato in questa scuola di formazione e l'apprendistato soprattutto di primo livello. Esatto, buongiorno a tutti innanzitutto e allora se vogliamo parlare di apprendistato di primo livello sicuramente parliamo di una grandissima opportunità per quello che riguarda i giovani e le aziende oggi. Cosa significa questo? Intanto che cos'è l'apprendistato di primo livello? È un'occasione che si regala appunto a queste due agenzie, chiamiamole così, insieme a un ente di formazione professionale, che è il terzo elemento che balla insieme alle prime due che abbiamo visto, proprio per permettere a un ragazzo, un apprendista, di essere assunto a tempo indeterminato, quindi con un contratto di tempo indeterminato, ma facendo ancora uno, due, fino addirittura a tre anni di formazione per raggiungere contemporaneamente un titolo di studio. Quindi un apprendizio si trova nel doppio status di persona assunta a tempo indeterminato presso un'azienda, con cui può fare una grandissima esperienza e i vantaggi sono molteplici, ma allo stesso tempo in orario di lavoro frequentare una scuola con cui può avanzare, diciamo, le sue qualità, le sue peculiarità, anche a livello formativo e ovviamente didattico. Questa è una grandissima opportunità che nasce dall'articolo 81 appunto del 2015 e poi con l'articolo 43 e dà appunto questa grandissima opportunità. Da questo punto di vista l'opportunità, dicevo, è duplice, perché se per un ragazzo abbiamo visto che i vantaggi sono grandi, vuol dire lavorare, avere una tredicesima, quindi non parliamo di uno stage retribuito, parliamo di qualcosa di molto più concreto, ma allo stesso tempo riuscire a completare proprio la sua formazione. Quindi fondamentale anche questo aspetto è raggiungere un titolo di studio di qualifica o diploma professionale. Ecco, invece dall'altra parte c'è l'impresa, ci sono molte imprese all'ascolto, come mai dovrebbe scegliere l'apprendistato? Allora ci rivolgiamo a loro direttamente a questo punto, perché no, stizziamo un po' l'occhio anche a questo, perché diciamo che Galdus già da diversi anni, come diceva prima il presidente Diego Montrone, è molto attiva sul discorso di contatti aziendali, ma proprio per natura, dei centri di formazione professionali all'IFP in Lombardia. Quindi diciamo che già dal secondo e terzo anno i nostri studenti frequentano uno stage e sono in contatto diretto con le aziende, anche se molto giovani, quindi fanno una sorta di prova non retribuita all'interno dell'orario scolastico, ma al termine di questo, chiamiamolo l'esperimento di questa prova, molto spesso le aziende iniziano a notare questi ragazzi, gli insegnano un mestiere, gli insegnano anche a stare nella relazione lavorativa, che è assolutamente fondamentale. Diciamo che all'inizio di questo esperimento dell'apprendistato di primo livello, eravamo noi, al termine del percorso scolastico, a bussare un po' le porte delle aziende e dire, guardate, se vi è piaciuto uno dei nostri studenti, alla fine, questo può essere l'occasione giusta. Uno, perché ovviamente, non credo sia l'elemento principale, ma un bel risparmio anche rispetto al tradizionale apprendistato professionalizzante, di circa il 30-40% economicamente, che non è poco per un'azienda, soprattutto in uscita da questa crisi economica. E dall'altro lato, però, io dico che non è l'elemento fondamentale e portante questo, perché ha l'opportunità di osservare ancora il ragazzo in un periodo, chiamiamolo di prova, anche se poi è assunto effettivamente dall'azienda stessa, proprio per fidelizzarlo, per formarlo, per iniziare a puntare veramente sui giovani, che è quello che noi vogliamo fare da tanti anni. Allora, c'è la possibilità di scegliere già adesso, diciamo questa cosa, date il sito, che siamo in chiusura. Allora, il sito è www.galdus.it Galdus.it, ok. C'è da dire, se posso, l'ultima cosa, visto che hai detto che ci sono tante imprese in ascolto, c'è un elemento importante, spesso si sente dire la scuola non forma quello di cui le aziende hanno bisogno, con l'apprendistato questa cosa scompare, perché l'azienda è coinvolta in un processo di formazione insieme all'ente formativo e quindi non ci sono più alivi per arrivare a questa dichiarazione. È possibile farlo insieme e quindi l'azienda si potrà dotare, grazie all'apprendistato, di professionisti formati come lei ha bisogno. Quindi è una delle figure coinvolte nella formazione dei ragazzi. Vi ringrazio tantissimo, Diego Montrone, presidente Galdus, e Fabrizio Lops, responsabile area placement apprendistato.